Oggi è venerdì, l'ultimo giorno di allenamento della settimana, ci troviamo al nuovo di Castel Trentano, ecco qua piccolo trotto i ragazzi della categoria esordienti di mister Giuseppe Gian Cristoforo e Simone Giordano. Bravi ragazzi, questo è il gruppo degli esordienti, manca sicuramente qualcuno perché quest'anno faremo due squadre di esordienti e faranno due campionati, ci saranno due campionati. Qua c'è il botteghino nostro per le iscrizioni, c'è la fila, ecco sta arrivando mister Giuseppe adesso. Qua in fondo abbiamo i pulcini, c'è mister Giulio e mister Nicola, sono i pulcini. I pulcini che si stanno allenando, qua il manderboso sta riprendendo la forma dei migliori tempi. Quando era proprio un tappeto, ecco qua gli esordienti chiamati da mister Giordano Simone. Ne contiamo così a occhio, due, quattro, sei, nove, dieci, una ventina, ma ne stanno arrivando altri, ecco che si vede che vanno negli sfogliatoi a prepararsi. Ne abbiamo una trentina circa, ecco mister Simone che sta preparando il suo rettangolo di gioco. E' arrivato anche mister Giuseppe, si sta cambiando, quest'altro lato c'è i pulcini, ripeto mister Nicola e mister Giulio. Nicola di Cambri e Giulio Massimini, qua invece Simone e Giordano. E' un bel pomeriggio di sole, tira un leggero venticello, ma si sta bene. I ragazzi è meglio che sfruttano questi ultimi giorni di belle giornate, fra poco tornerà il freddo. Pioggia, nebbia, oscurità già dalle quattro e mezzo, poi la neve. Sicuramente troveranno qualche giorno, qualche giornata di allenamenti con un clima non ideale, però i ragazzi si devono abituare a giocare con tutte le temperature, col caldo, col freddo, con la neve, pioggia. Così si tembrano, ovviamente negli allenamenti si vestiranno adeguatamente. Possono mettere pure il cappellino, i guanti, la protezione per il col, il kiwai. Ma si consiglia che rimangano in pantaloncini, anche perché il sottoscritto odia le calzemaglie con tutte che non sono appropriate, basta che un ragazzo si copre sopra con la maglia termica, e seppure sta in pantaloncini non fa niente, più si coprono e più si ammalano. Ecco un'altra tre a posto che sono arrivati e questo è il gruppo massiccio. Dopo la corsetta stanno facendo esercizi di respirazione, è tornato anche pure pizzi. Guardate, guardate, fermi, respiriamo, 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 di caldo, di caldo. Qua in punto c'è il gruppo, il gruppo dei ragazzi 2009-2010, il gruppo di mister Gabriele di Felice, che è anche coordinatore dei mister. nonché mister degli allievi. Anche qui abbiamo un gruppo numeroso. Ecco, col fischietto dagli ordini. A quest'altro lato ci sono i tuppiccoli. c'è anche, sono sempre gli stessi, e abbiamo anche una mister rosa, la signorina Anna Valente, che collabora con mister Gabriele di Felice. Qua abbiamo anche Francesco Mancini. ecco, poi i piccolini si accingono, ognuno ha il suo pallone. ecco, dall'altro ordine il mister Gabriele, ognuno parte con la sua palla, il piccolino è caduto da solo. Ci siamo? Ok, alzati. Stiamo fermi così. benissimo. ecco.